Come Regione Lombardia da tempo siamo fortemente impegnati nel cercare di spostare l'attenzione del servizio sanitario e socio-sanitario dall'ospedale al territorio, ovvero per venire incontro in maniera più appropriata e puntuale ai bisogni dei nostri pazienti, dei nostri concittadini più fragili e cronici che sono gli anziani. Quindi stiamo lavorando alle degenze di comunità e in questi anni non solo abbiamo sperimentato ma ormai è diventato un sistema consolidato l'assistenza domiciliare integrata che coinvolge più di 110.000 concittadini, il tema RS aperta, anche questa è una modalità per sul territorio gestire i nostri pazienti più fragili, i CDI che sono i centri diurni integrati dove gli anziani che sono a domicilio trovano durante la giornata momenti di aggregazione e di mantenimento in attività, quindi un grande sforzo che ha come obiettivo quello di essere il più vicini ai cittadini nei momenti del loro bisogno, curarli meglio e farli stare a loro domicilio che il loro abito naturale.